Solidarietà e volontariato al centro del protocollo d'intesa firmato ieri sera al Comune di Scicli, tra il sindaco Enzo Giannone, l'Avis di Scicli e l'Aido di Ragusa. Il protocollo serve a fare sistema, a fare squadra in tutti gli appuntamenti che saranno organizzati dalle due associazioni di volontariato. Testimonial d'eccezione Angelo Russo in arte catarella, l'agente di polizia, tra i protagonisti della fortunata serie del commissario Montalbano che ha ricevuto una targa a ricordo per suggellare questo importante protocollo. Sono onorato di essere qui questa sera presente, di prendere questa targa che è una cosa molto importante, di essere utile al prossimo è la cosa più bella che dovremmo fare tutti. Vi dico grazie, se lo sapessi ve lo disse ma non lo so, ma non ho neanche le parole di dirvi grazie. Grazie, grazie e grazie. L'opera umana più bella al mondo è di essere utile al prossimo. Questa è la frase che riporta la targa per evidenziare ancora una volta il ruolo delle due associazioni nel campo della solidarietà. E far sì che tutte quelle che possono essere le manifestazioni siamo coesi e non si soffra, cavalliamo nelle stesse giornate di avere questi eventi ma di avere degli eventi spostati, programmati insieme. Aido e Avis dunque insieme per fare grande la provincia di Ragusa, così come ha sottolineato il presidente di Avis Sicilia. Non è soltanto costituzionalmente riconosciuto il diritto alla salute, ma è fondamentale perché affinché non manchi mai negli ospedali il sangue, non possa mancare mai nei centri transfusionali, non possa mancare soprattutto a quelli che hanno patologie talassemiche che ogni 15 giorni hanno bisogno di sangue.